Io vi mangio la meretta, la meretta vi mangio. Avevo detto che ci dovevo far uscire. Però si esce solo due minuti. Torna il maestro, aiuto, torna il maestro. Che tipo il maestro? Ma bene, è stato. Il maestro ha il capo di tanti del bastonate. E il maestro mi vuole dare le bastonate e io sono curvo. E il maestro si fa un colpo e si dimentica tutto. E a me è andata bene. Niente botte, la merenda me la sono mangiata. I ragazzi sono tornati e anche questa volta è andata bene. Allora, abbiamo capito benissimo chi è Peppe Nappa. Giusto? Ma Peppe Nappa non è che è l'unica maschera tradizionale. È l'unica maschera tradizionale siciliana. E io adesso vi faccio vedere lì delle altre maschere. Perché non lo so se tutti le conoscete. Vediamo, adesso vuoi guardare da quella parte e io vi racconto di altri personaggi.